L'intervista all'attrice di Silvia Bruno nel Paradiso delle Signore Otto È un nuovo personaggio dei Il Paradisi delle Signore Otto, con questa intervista a Silvia Bruno la diamo il benvenuto al casting della telenovela. L'attrice che abbiamo incontrato sul set interpreta Agatha Puglisi. Parole a lei. Potete trovare il video con l'intervista completa a Silvia Bruno, Agatha Puglisi, in cima a questo articolo. Nel Paradisi delle Signore Otto, Agatha scopre di essere molto brava a disegnare ed è molto determinata a raggiungere i suoi obiettivi e bello vedere la famiglia Paradise crescere. Nel Paradisi delle Signore Otto arriva Agatha, interpretata da lei. Sono entrambe figlie di Ciro e Concetta Puglisi. È la sorella minore di Maria. Entrambi i genitori e la seconda figlia sono di Partanna a Milano. La vediamo poi entrare in questa nuova realtà in le Paradide da motto. Nell'intervista Silvia Bruno ha raccontato che Agatha all'inizio aveva un po' di difficoltà, ma era molto giovane, molto entusiasta. Pertanto è colui che ha la migliore adattabilità e il maggiore entusiasmo per la nuova realtà. Inoltre, scoprirà di essere molto brava a disegnare e sarà molto determinata a raggiungere i suoi obiettivi. Ti dico. Questo potrebbe non rivelare spoiler, ma per noi è sufficiente per illuminarci. Silvia Bruno ha rivelato che Agatha è molto brava a disegnare. Magari farà concorrenza alla sorella, stilista in un grande magazzino. Non posso dirlo, ma posso dirvi che Agatha e Maria instaureranno un vero rapporto meraviglioso nel Paradisi delle Signore Otto. Conferma Silvia Bruno in questa intervista sul posto. Agatha Puglisi sogna un grande amore ma anche soddisfazioni professionali nel Paradisi delle Signore Otto. Come conferma Silvia Bruno in questa intervista, Agatha instaura un bellissimo rapporto anche con le altre ragazze del grande magazzino. Dopotutto, aveva sempre sentito parlare del Paradiso e degli amici più cari di Maria. Lei è stata accolta con tanto amore come membro della famiglia Puglisi. La parola amore apre la porta del Paradiso. Agatha è un personaggio che spera di trovare un equilibrio tra la sua vita professionale e quella sentimentale. Nel senso che non privilegia né l'una né l'altra. Infatti Agatha sogna, sogna un grande, amore. Agatha è una ragazzina molto giovane. Anche i suoi sogni diventano realtà. Ricordatevi che l'uno non esclude l'altro, tutto qui. Quindi è assolutamente molto concentrata sulla sua carriera e sul suo percorso professionale, ma sogna nel Paradisi delle Signore Otto. Come ha rivelato Silvia Bruno in un'intervista sul set. È molto, molto romantico, ha aggiunto. Anche lei sogna un grande amore. Dopo Dora Vianello, ci manca una venere così. Silvia Bruno dice che Agatha Puglisi ci sorprenderà in positivo. È sempre difficile capire cosa aspettarsi da un nuovo capitolo. Soprattutto in una serie di lunga durata. Nel Paradisi delle Signore Otto, come prevede Silvia Bruno in questa intervista, la sorella di Maria vi sorprenderà. Aspettatevi una grande crescita. Questo è un personaggio con un processo di crescita davvero eccezionale. Ti sorprenderà sicuramente in modo positivo. Oltretutto è un personaggio che avrà rapporti con vari personaggi del Paradiso. Ti la vedrai interagire molto.